Con l'avvicinarsi delle festività natalizie in tutta la regione si intensificano i controlli sui prodotti ittici. Sul Gargano, ad esempio, precisamente a Dischitella, i carabinieri del nucleo CITES di Bari e gli uomini della Capitaneria di Porto di Manfredonia, in una serie di controlli congiunti negli allevamenti ittici, hanno riscontrato in uno di questi molto conosciuto in zona delle irregolarità che hanno portato al sequestro di 150 kg di prodotto ittico per un valore commerciale di circa 4.000 euro. e a sanzioni amministrative per 1.500 euro. Il pesce ritrovato e sequestrato era privo di etichettatura e di documentazione obbligatoria per legge che ne attestasse la provenienza.